Avevano creato una vera e propria centrale di smistamento della cocaina approfittando della copertura derivante dal loro lavoro regolare in tre aziende vitivinicole di Montalcino. La droga era destinata a imprenditori del luogo per festini e serate nei locali e quanto hanno scoperto i carabinieri di Siena nel corso dell'operazione Montalcino Express. Abbiamo concluso oggi un'attività investigativa con l'esecuzione di otto misure cautelari nei confronti di soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti e il centro di questa organizzazione, nonché di smistamento della cocaina nella provincia di Siena era stato realizzato proprio a Montalcino, una cittadina tranquilla dove questi albanesi si erano ormai radicati da molto tempo e all'interno delle aziende dove lavoravano, che ripeto non sono minimamente coinvolte e sono all'oscuro di quello che veniva fatto dai propri dipendenti avevano invece creato un vero e proprio centrale di smistamento della cocaina. Indagate altre 15 persone, la cocaina arrivava da Roma e Milano grazie a corrieri generalmente incensurati. Nel corso dell'attività abbiamo sequestrato oltre 5 kg di sostanza stupefacente tra cocaina, ascice e marioana. Diciamo che quella che aveva un maggior rilievo, un maggior interesse era la cocaina e nel periodo in cui abbiamo monitorato questi soggetti oggi arrestati arrivavano in provincia circa 500 g di cocaina per volta.